Buona la prima, in tutti i sensi una gara perfetta e anche se non ci illudiamo di essere veramente quella macchina da guerra citata da Fabio Caressa, sappiamo che possiamo divertirci con questa nazionale. Mix perfetto fra giovani e meno giovani con una prestazione eccellente che ha annichilito una Turchia che non abbiamo corso il rischio di sottovalutare. Abbiamo giocato solo noi, pochi dubbi, testa leggera e cuore caldo, ha detto Bonucci. Tanta lucidità anche quando l'arbitro e il VAR hanno negato l'evidenza di un rigore che appariva solare nel finale della prima frazione. Poi nel secondo tempo Berardi, uno dei migliori in campo, spara in mezzo colpendo il più italiano dei turchi, Demiral, che la mette nella porta sbagliata. Un gol che ha avuto il sapore di uno sfogo visto che la palla non voleva proprio entrare, ci aveva già provato Insigne a giro e chiellini di testa, soltanto Italia. Mancini perfetto anche nei cambi, chi è entrato ha fatto il suo, immobile segna il raddoppio mettendo dentro su una ribattuta del portiere turco. Infine la perla d'Insigne che prova e riprova e ha ritrovato finalmente la sua mattonella con quello che a Napoli chiamano Utiragir. Un 3-0 talmente netto che ci fa sognare e sbilanciare. Mancini dice, ne mancano sei fino a Wembley, sappiamo di non essere i favoriti ma sognare è gratis e la squadra ci piace. Ci fa piacere aver dato soddisfazione a tutti gli italiani che hanno visto la partita, a tutti gli italiani che erano allo stadio dopo tanto tempo. È stata una serata bellissima, mi aspettavo fosse una serata bella, però sapevamo anche che sarebbe stato non semplice perché la Turchia è un'ottima squadra piena di giocatori di talento. Noi abbiamo fatto una buonissima gara, abbiamo veramente lasciato poco a loro. Io penso che noi abbiamo giocato un'ottima partita, non abbiamo fatto giocare la Turchia, che non è una squadra debole, è una squadra piena di grandi giocatori. Noi abbiamo avuto un grande merito, non averli fatti giocare e aver continuato a pressare, anche nonostante che nel primo tempo loro erano tutti dietro, quindi era difficile entrare. Però credo che il merito sia stato dei nostri ragazzi. Grazie a tutti.